sono felice di aver pubblicato Enrico Blues di Valeria Dalbo nella collana fuochi diretta da Ottavio Rossani con una nota di Giampiero Neri noto poeta scomparso qualche tempo fa quello che colpisce nella raccolta poetica di Valeria Dalbo e la sua messa in scena ovvero l'intera scenografia che il mondo poetico interno di Valeria Dalbo pone in essere sarebbe troppo facile come dice Ottavio Rossani nella postfazione scomodare Jung e Freud perché questa raccolta di Enrico ha moltissimo ma soprattutto penso che il lavoro fondamentale sia sulla dimensione dell'assenza ci sono stanze che non verranno visitate da nessuno strade che non verranno percorse da nessuno giochi mai usati dai bambini e forse dimenticati proprio dagli stessi e chissà anche figure fantasmatiche che appartengono non tanto all'inconscio di Valeria Dalbo ma al suo tracciato biografico ma una cosa fondamentale la dice Valeria Dalbo in questa raccolta la poesia è forma di riscatto e forma di riappropriazione di sé quale vittoria migliore